Allora vedremo come importare un oggetto da Blender direttamente con tutte le sue texture visto che alcuni hanno difficoltà quindi avendo scelto un paio di texture che sono queste, una foglia e una cosa astratta allora queste immagini le useremo come texture all'interno di Blender quindi innanzitutto prendiamoci il nostro cubo, questo e io ci aggiungo ancora oltre al cubo un'altra sfera UV sphere, la sposto un pochino e facciamo in modo tale da mettere praticamente due materiali completamente testurizzati se riesco a prendere questa cosa, ok quindi andiamo nella parte del dunque qui andiamo allora vediamola qua UV editing dove abbiamo praticamente le nostre texture e ci importiamo le nostre texture, uno di modi più semplici è semplicemente quello di prendere le texture e metterle dentro in questo modo vedete che abbiamo già creato dei due riferimenti alle due texture e abbiamo fatto soltanto un trascina questa cosa è la primissima cosa che facciamo e poi cerchiamo di assegnare la sfera a una delle due texture e il cubo a un'altra quindi andiamo qui in modalità materiali ci creiamo un materiale nuovo e questo materiale lo associamo come base color lo associamo alla texture e la texture ci mettiamo per esempio quella blu questa a questo punto per vederla effettivamente dobbiamo cambiare la modalità andiamo nella modalità texture e vedete che abbiamo effettivamente messo questa texture facciamo la stessa cosa anche per il cubo facciamo base color image texture e ci mettiamo la texture l'altra questa foglia quindi abbiamo una splendida scena che ha due texture contemporaneamente ora queste texture ricordo che le ho messe in una cartella che è questa e le ho messe in una cartella proprio per poterla rintracciare facilmente questa cartella è ctrl c me la salvo e mi ctrl s salviamo questa cosa e la mettiamo dentro questa cartella che avevamo deciso e mettiamo praticamente un facciamo un vabbè blender punto blender ok un titan mi piace poco salviamo il file blender in questo nella cartella dove ho messo anche tutte le texture a questo punto vado in unity andando in unity dove c'ho ancora il pezzo precedente voglio qui infilare sia la mia vedete che io qui c'ho il mio pacchetto cioè il blender che ho appena salvato le due immagini quindi prendo e prendo insieme il blender e tutte le immagini qui fa riferimento le prendo e le metto praticamente in ecco non mi funziona perché ero in search quindi qua devo togliere la parte di search ok torno nel posto dove voglio mettere e faccio di nuovo quello che stavo cercando di fare prendo questa immagine le metto qua e vedete che mi ha automaticamente riconosciuto il blender ecco qua c'è solo una piccola cosa perché riconosco effettivamente i file blender occorre che questi siano che il blender sia registrato per le senzioni punto blend quindi nelle associazioni qui dovete avere cura che le associazioni siano giuste giuste quindi dovete andare praticamente a selezionarvi il blender e dire che è associato il file punto blend oppure ancora più semplicemente andate nel vostro file punto blend e gli fate il apricon e gli dice andate a cercare attraverso tutta questa tiritera andate a cercare praticamente il blender punto ex la versione che vi interessa e a questo punto siete sicuri allora quando blender è costruito quindi potete prendere tutta questa parte qua vedete che c'è dentro tutte le le cose che ci interessano se clicchiamo vedete che le texture si sono conservate e le possiamo mettere direttamente nel nostro ambiente qui vedete mi ha fatto notare Michelangelo che questo in realtà è abbastanza chiaro si vede che c'è una camera e una luce di troppo e sono queste camera e luce per poterle rimuovere non basta semplicemente fare tasto destro delete perché dice che questo è blu è un prefabbricato e quindi occorre dirgli che non è un prefab cioè spacchettare il prefabbricato quindi tasto destro unpack prefab e a questo punto potete prendere la camera e la luce che sono qui dentro e le togliete rimane soltanto il cubo e la sfera questo pezzo lo potete trattare come un oggetto unico qui c'era già un VRC world che era lì quindi lo mettiamo un pochino staccato e lo ruotiamo in modo tale da ok da vedere più o meno questa scena e praticamente ecco vedete che questa qui è l'altra camera comunque facciamo ctrl s e se noi entriamo a questo punto in VRChat dovremmo vedere tranquillamente il nostro oggetto completamente texturizzato facciamolo giusto per essere sicuri quindi entriamo in build e in test facciamo la compilazione e il test in locale come al solito per VRChat quindi c'entra nella finestrina VRChat ok e vedete che abbiamo le nostre texturizzazioni qui a parte che fa un po' schifo la sfera perché non l'ho messa smooth ma il concetto è che le immagini che ci ho messo sopra si sono conservate quindi nel bene e nel male abbiamo fatto tutto quello che ci interessava se avessimo voluto vederlo in un modo un po' più veloce con il cianemo potevamo semplicemente fare il play avendo installato il cianemo e facendo il play avremmo visto invece che aspettare quei 15 secondi vedete che è partito con in 3-4 secondi possiamo vedere più o meno la stessa cosa che vedremo in VRChat però lo vediamo in Unity quindi questa è l'emulazione che ci interessa escape stop e quindi è molto più veloce è tutto